31 dicembre 2018, ultimo giorno dell'anno, cosa c'è di meglio che un WOD di fine anno? E allora eccolo qua, in team da 3, 25 minuti unrub, 100 calorie slow, 100 deadlift, 80 calorie slow, 80 hang power clean, 60 calorie slow, 60 front squat, 40 calorie slow, 40 push jerk, 20 calorie slow e 20 cluster. Pese e scalature come al solito nella grafica qui di fianco, vi ricordiamo che oggi si aprono le iscrizioni della gara Top of the Box e ci vediamo domani per un altro WOD insieme. Ciao, buon anno!